Mi chiamo Giovanna Provitola, ho 25 anni, vengo da Giuliano in Campania, in provincia di Napoli. Prima di frequentare la Chef Academy ho frequentato l'università, ma ho capito che in quell'esperienza non ci stavo mettendo il cuore e quindi ho deciso di scegliere il mio cuore, di scegliere la mia passione e quindi ho deciso di frequentare la Chef Academy. La Chef Academy l'ho trovata su internet perché appunto mi sono messa in cerca di varie accademie e alla fine ho scelto questa perché mi è risultata una delle migliori accademie. Nel momento in cui sono entrata a far parte della Chef Academy mi sono trovata di fronte dei grandi maestri pasticceri con delle grandi professionalità e quindi sono più che sicura di aver scelto la strada giusta. Dopo aver frequentato questa Accademia frequenterò lo stage presso la pasticceria La Casa del Dolce che si trova sempre in provincia di Napoli. Concilio la Chef Academy a chiunque come me voglia realizzare il suo sogno e voglia realizzarsi nel mondo della pasticceria. Grazie a tutti.